As usual, this video will be in Italian, so if you don't understand Italian language and you still want to participate in this, English rules are in the description. See you next time! This video will be a bit fast and essential and I will be like this, I hope you will be happy with the same, but in any way we are here to announce the Creator Contest 3 ITA. Velociamente, as some of you will know, the theme of the Creator Contest 3 ITA will be the remake, V2, if you want to call it, but I will not be sure it's a V2, later I will explain it better, of a level original, of a main level, of one of the first 20 levels from Star of Madness to Deadlocked. Le regole sono molto molto semplici, allora potrete usare solo le 20 canzoni originali, quindi sempre da Star of Madness a Deadlocked, oppure le loro corrispettive controparti su Newgrounds. Per farvi un esempio, se volete fare un livello con, non lo so, con Can't Let Go, potete usare Can't Let Go, la canzone numero 6, già in Geometry Dash, oppure potete usare la canzone Can't Let Go di DJV su Newgrounds, però non potete usare altre canzoni per fare un remake di Can't Let Go. L'unica piccolissima eccezione è per Theory of Everything, e sarà permesso usare anche Theory of Everything XL, che è praticamente la stessa canzone con un drop più fico, e quindi sì, sarà permesso usare Theory of Everything XL per fare un remake di Theory of Everything. Poi, passando ai dati del design e del gameplay, allora, il gameplay dovrà essere diverso dal gameplay del livello originale, insomma potrà essere più difficile, più facile, non importa, potrà essere la difficoltà, potrà essere uguale. Basta che cambiate un po' il gameplay, e per renderlo un po' più divertente, non lo so, basta che chiamate un po' il gameplay per renderlo diverso dal livello originale. In quanto a design, il design dovrà essere 2.0 roso, o comunque dovrà essere nuovo. Dovrete cercare di modernizzare il design del livello originale. Ovviamente sarà più difficile farlo in livelli come Geometrical Dominator o Deadlocked, perché sono fatti con la 2.0, ma dei livelli fatti con la 1.2.3.4. Sebbene siano belli, oddio, a me piacciono un casino i viaggiornamenti vecchi come si può vedere da Forgotten Memories, però, il design deve essere modernizzato, dovete cambiarlo, anche se dovrete cercare di far, insomma, ricordare il design del livello vecchio. Dovete far capire che quello è comunque un livello vecchio, dovete dare degli spunti, però il design dovrà essere nuovo. Se il resto c'è massima libertà su come fare il remake, insomma, consigliamo veramente di rimodernizzare tutto, di farlo sembrare molto più nuovo, molto più vivo il livello, potete usare i move, gli alpha, tutto quanto. Per cercare di fare un remake veramente perfetto, però potete farlo anche uguale il design, ovviamente prenderete meno punti e quindi perderete... Per il resto, per i livelli non c'è nulla da dire, se avete altre domande ci sarà un modulo nella descrizione per chiedere aiuto per fare delle domande, noi vi risponderemo il prima possibile, basta che ci diate un modo su come rispondervi, o altrimenti contattate, insomma, gli admin del gruppo su Facebook, sapete già chi siamo probabilmente. Per i premi non sono ancora esattamente stati decisi, quindi vi manderemo un video prima possibile. Avrei voluto metterveli in questo video, solo che non siamo ancora riusciti a deciderli e siccome io sto per andare via, devo andare via fra 2-3 giorni, e sì, devo veramente fare questo video in fretta e in furia e quindi non posso ancora metterli, Però appena li avremo decisi caricheremo un video con i premi e saprete quali sono sicuramente tutti i livelli della top 5 e probabilmente della top 3 stellati perché credo che come classifica faremo come nello scorso contest E saranno tutti i fiturati perché abbiamo il nostro fituratore preferito DreamEater che vi riporta ai giudici. Quali saranno i giudici di questo CC3? Allora, i giudici saranno, vabbè, io, MerloCreator, poi Leonardo Rolandi alias Oxplit, Crystal, DreamEater e a sorpresa come giudice speciale Fixum perché ha vinto il contest scorso, insomma, quindi lui sarà il nostro giudice. Inoltre ci tengo a ringraziare particolarmente Mr. Kebab che è anche lui nel team del contest, non per fare il giudice ma lui registrerà i livelli che voi farete, quindi se avete un video nel livello per favore mandatelo perché ci risparmiate un sacco di lavoro, però se non l'avete Kebab riuscirà a registrarli, speriamo che riuscirà a registrarli e se no, boh, non lo so, vedremo, ci inventeremo qualcosa. L'abbiamo sempre fatto, di oltretutto ce la siamo sempre cavata. Io non ho veramente altro da dirvi, mi scuso ancora tantissimo se questo video ha veramente pochi dettagli ma lo sto facendo veramente di corsa perché devo andare, però voglio cercare di portarvelo il prima possibile perché tanti stanno scrivendo sul gruppo Facebook quando esce il contest e quando c'è il contest, quindi io ho fatto del mio meglio per portarvelo il prima possibile. Ecco, accontentatevi di un video con pochi dettagli, appunto se avete domande perché posso comprendere che questo video sia un po' incompleto, scrivetele nei commenti di questo video, nel post, possibilmente nel forum, nel Google forum che vi metteremo in descrizione ma anche su Facebook potete farci delle domande. E niente, io vi ringrazio della visione, spero che vi divertirete a fare questo Creator Contest Ita che finirà fra un mese e mezzo esatto, ovvero mercoledì 13 gennaio 2016, quindi direi che il tempo lo avete. E adesso andate e fate diventare i main level che fanno schifo, fateli diventare qualcosa di unico e noi ci rivediamo nei risultati. Oppure ci rivedremo presto, probabilmente dopo la mia vacanza, che sarà dal... non è una vacanza, è la verità però vabbè, dal 4 all'8 dicembre, sì gennaio, dal 4 all'8 dicembre e dopo questa piccola cosa farò la Creator Analysis su Pennuto perché è il suo premio e quindi, sì, ci rivedremo presto con quel video. Magari profiterò per rispondere a alcune delle vostre domande anche in quel video, però per intanto noi dobbiamo salutarci, io vi saluto e spero che vi piaccia questo Contest 3, woohoo!